Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti. Senza soldi non si cantano messe, il vecchio adagio è sempre attuale. Ne sa qualcosa il consigliere comunale avellinese Franco Russo, referente del circolo PD, libertà e partecipazione. In un'intervista a Ortikalab Russo ha duramente polemizzato con il partito centrale perché ancora non versa ai circoli i soldi del tesseramento 2016. In queste condizioni, ha detto Russo, non andremo avanti, può saltare il congresso provinciale. Eccoci al punto dunque, senza soldi non si cantano messe. Ma forse è proprio ciò che vuole il Nazareno, consapevole com'è che al congresso di Irpino l'unica messa cantabile è quella funebre.